Papa Francesco ha scritto che il presepe è una grande opera di evangelizzazione ed è stato proprio così anche per questa edizione del 2021. Nel colonnato del Bernini, che è una realtà unica in tutto il mondo, quest'anno ci sono stati i 100 presepi in Vaticano. In realtà gli artisti che hanno esposto le loro opere erano 126, ma la cosa sensazionale che possiamo dire è certamente che i pellegrini, quanti visitatori sono venuti, sono nel numero di 190.416. Tanti erano i bambini, tanti giovani, tanti papà e mamme, famiglie. Questa è stata veramente una grande opera di evangelizzazione. Speriamo che aver visitato il presepe possa aver dato ancora di più in questo periodo un grande segno di speranza. Senta, questa esperienza suggerirebbe che è ben salda l'attenzione della gente nei confronti del presepe. Lei cosa ne pensa? Assolutamente sì. È una tradizione che nei nostri paesi ancora continua e che sarà ancora di più incrementata, soprattutto perché in questi momenti c'è quel positivo senso di nostalgia che porta inevitabilmente a riscoprire quelle che sono le nostre origini, la nostra identità, la nostra cultura. E quindi il presepe appartiene a tutto questo. È quel bagaglio di tradizioni a cui non si può rinunciare perché il messaggio che giunge è un messaggio di unità, è un messaggio di accoglienza, è un messaggio che va oltre la statuina del presepe perché raggiunge ciò che rappresenta, cioè quell'amore grande, infinito di Dio che viene incontro a ciascuno di noi. Consiglio Fisichella, parliamo del giubileo del 2025. Cosa possiamo dire al riguardo? Sono contento di poter dire che nell'udienza che Papa Francesco mi ha concesso lo scorso 3 gennaio c'è già un primo grande passo. Non c'è molto tempo verso il giubileo. Ci saranno tante opere che debbono essere realizzate. Ma la cosa più importante, il Papa ha approvato il motto del giubileo. Il motto equivale a dare il contenuto fondamentale su cui si svolgerà il giubileo del 2025. E si sintetizza tutto in due termini. Pellegrini di speranza. Ecco, il giubileo del 2025 sarà la luce della speranza. Non dimentichiamo però che la speranza per noi credenti è una certezza, è la presenza di quella inondazione dell'amore di Dio che ci viene incontro che deve straripare. Questa è la speranza. È un amore che straripa, che va al di là dei confini e di qualsiasi limite che si possa essere perché apre a quella certezza di essere in un incontro con il Signore amati e compresi da Lui. Quali sono i prossimi passi? Cosa ci possiamo aspettare? I prossimi passi sono ovviamente di diverso genere. Innanzitutto certamente c'è la grande preoccupazione di sapere essere una città, un paese che accoglie i pellegrini che verranno. Dopo il momento del Covid, dopo tutte queste situazioni di difficoltà oggettiva che il mondo ha vissuto, è ovvio che si è anche nella condizione di guardare al 2025 con una grande dinamica di movimenti che si rimettono in moto. E da questa prospettiva devo dire che sono molti i pellegrini che sono attesi per questo momento di un giubileo ordinario. Da questa prospettiva è ovvio che una città che sa accogliere deve essere anche una città che si struttura per poter accogliere. Ma già ci sono i contatti assidui ormai con il Comune di Roma, con la Regione, con il Governo italiano perché tutto possa svolgersi anzitutto nella sicurezza e poi ovviamente in quella capacità di accoglienza che Roma è sempre stata capace di offrire. Quali sono gli umori di Papa Francesco? Papa Francesco attende, come tutti quanti noi, la scadenza del giubileo. Ho visto il Papa estremamente interessato, anche quando il Papa mi ha parlato del giubileo che ormai è alle porte, guardandomi mi ha detto abbiamo soltanto due anni di fatto. La sua preoccupazione è perché tutto possa svilupparsi nel migliore dei modi. Io in questa condizione attendo anche di ricevere ulteriori indicazioni da parte del Santo Padre per poter mettere in moto il di castero e guardare al 2025 con grande speranza, che non è un gioco di parole. Ma devo dire che più riusciamo a dare un impatto preparatorio solido e più allora avremo anche la certezza di avere la celebrazione del giubileo in maniera più coerente.